Quindi, innanzitutto, siamo diventati ottimi amici e penso che questo sia fondamentale. Ovviamente è una bellissima donna, ma è anche una persona a cui ho iniziato a tenere molto, perché era la mia partner, che vedevo tutti i giorni sul set. È davvero una bella persona in tutti i sensi. E così, dopo un po', vedi, in Turchia, non so se sai come sono le condizioni di lavoro, ma sei sul set tutti i giorni per 16-17 ore al giorno. E ha cominciato a essere difficile per me pensare, beh, solo un'amica. Così mi sono detto, ok, è bellissima e mi piace perché è fantastica. Sì. Però abbiamo aspettato un po'. È la vita. Siete bellissimi, questo posso dirlo. You're beautiful together. Siete molto belli insieme. Grazie. Sì, sì. È merito suo. È fantastica. Io non conto. Lei è fantastica. E a te brillano gli occhi quando parli di lei. Questa è la cosa bella. E a te brillano gli occhi quando parli di lei. Questa è la cosa bella.